ciao a tutti benvenuti su mtgps per magis of lotus oggi parliamo di tre carte che possono essere dei buoni investimenti in questo momento allora partiamo dai movable rod che è un artefatto che praticamente possiamo decidere di non stappare quando viene stappato ci avventuriamo nel dungeon e tappando 4 e tappandolo fin tanto che rimane tappato un permanente perde tutte le abilità e non può ne attaccare ne bloccare in commander questa carta è giocabile perché possiamo di volta in volta bloccare o una creatura o un placewalker o un incantesimo o un artefatto e quindi togliere quel problema quando decideremo di farlo stappare invece ci avventuriamo nel dungeon in più anche se l'avversario non ha permanenti importanti possiamo tapparlo a caso e bloccare una terra e e stapparlo il turno dopo per avventurarci nel dungeon e alla passiamo al prossimo alla prossima carta che è the rocks investigation costa tre mana e quando ci quando attacchiamo investighiamo e quando sacrifichiamo un clue ci avventuriamo nel dungeon per i mazzi aggressivi o tempo un'ottima carta perché fa tantissimo vantaggio quindi può essere anche un buon investimento i prezzi che vedete sono della versione full art l'altra versione costa meno però anche la versione full art si può comprare siamo la terza carta che guardian project altra carta per commander e dice incantesimo costo 4 quando entra una creatura non token che non è non ha lo stesso nome di un altro che controlliamo in gioco nel cimitero peschiamo una carta quindi in commander non giochiamo due copie la stessa carta quindi ogni volta entrare in gioco una creatura pescheremo una carta questa è molto inflazionata sta salendo nell'ultimo periodo è però ancora un buon investimento un saluto ed un abbraccio ciao iscrivetevi al canale